E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E sono Steffek, se oggi chiama Minecraft E torniamo con un nuovo episodio di The Floor is Lava Ovviamente cercheremo ancora di superare la casa strapiena di lava In compagnia di Espigioche e Luca Esattamente, in questo episodio l'obiettivo sarà superare tutto il salone pieno di lava E passare dal bagno per cercare finalmente una via di fuga dalla casa Chissà se riusciremo a trovarla, ma in ogni caso gli ostacoli saranno tanti E ci saranno diverse novità, diciamo, per continuare i nostri percorsi Quindi, buona visione con questo video Siamo tornati Tornati finalmente Siamo messi malissimo Non ci stiamo E sento l'alito di Espi che puzza Ha mangiato troppe barbabietole È Luca che è troppo ciccione Guardatelo quanto spazio occupa Ma cosa, ma no Non è vero Signori, ascoltate a me L'obiettivo di oggi è passare su tutto il soggiorno Oh no, no, no Per cercare una via di fuga Quindi iniziamo a creare una stradina per andare sopra il caminetto, lì alla sinistra E direi che inizia a fare la strada Espi No, perché se prendi il segno, signor professore Vai, bravo Su, su, uno alla volta, uno alla volta È Luca dietro di me, scommetto No, ci sono io Grazie al cielo Che forse sei anche peggio Arriva anch'io, Steph Ok, forza, forza, forza Non c'è molto spazio da queste parti Ma come faccio? Cioè, qui è tutto pieno di fuoco Forza, Fer, devi saltare Fate lì spazio Non c'è spazio E brucia tutto Venite, venite, faccio una stradina Andiamo Aiuto Ok Eccomi qua, eccomi qua Perfetto, perfetto Oddio, dove siamo finiti, Steph? Allora, siamo dentro un vaso Ah, un vaso E stavo pensando di fare una sorta di buco nel vaso per salire qua sopra Ok, ok Quindi, la tattica di Luca in poche parole Facciamo così Rompere le cose Facciamo così Facciamo così E siamo già abbastanza in alto Dopodiché dobbiamo andare ancora più su Perché così non sprechiamo blocchi Scapa, scapattissima Domanda sui blocchi E spigna pochissimi Zero Io ho consumato tutti Bene, bene, bene Io ne ho sette Luca e Fere? Quindici Allora Fere, tocca a te Benvenuti Noi Io non voglio fare La tocca a voi E hai uno in più Cioè, cosa devo fare fino al Fino al quadretto Fotto Non so cosa sia Radina Posso farti vedere una cosa Cosa stai combinando? Biscotti Cosa ti hai fatto vedere? Niente Niente Steph Guarda che poi Espi Non riesce a pensare ad altro Fere, basta così Possiamo saltare Vai Fere Salta, salta, salta Forza, forza, forza Yes Ok Ui Salta, salta, salta Secondo te Ci arriviamo a qua Ragazzi Ragazzi, ragazzi Lì sopra Nell'ultimo vaso C'è chiaramente Un cartello Lo vedete? E che hai fatto a verlo là lì Mamma mia E si vede Sta sopra il vaso Si nota abbastanza Io sinceramente Stavo guardando L'altro fotoritratto Non so come si chiamano Per vedere se riusciamo a saltare Secondo me sì Tutti a sinistra State tutti a sinistra Ok 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 Geronimo Ok Ce lo possiamo fare Vai Fere Niki Vado È fattibile Perfetto Andate una alla volta Piano Aspettate Ma è prima tu Questa volta sto di io indietro Va bene Prego No Steph Non si può fare questo Sì è fattibile Fere dai Non è troppo difficile Vai 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 Ce la puoi fare Fere Brava 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 Uno alla volta Uno alla volta Mamma mia Ok mi metto qua Così lascio spazio Perfetto Ok allora Ci manca soltanto Arrivare a quel vaso C'è anche un cartello Il problema Espi l'ho detto tre minuti fa Espi l'ha detto cinque minuti fa Ma non ascolti Scusate sono mio Oddio 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 Sono salvo Espi Mi sono salvato Non ci credo Comunque a Steph Aspetta una punizione Non è giusto che si salvi così Che possa pulizzare le persone Guarda Ti rendo muto Tieni Dove è il biscotto Abbiamo tutti i pochissimi blocchi E saltare è impossibile No certo Quindi ci tocca fare almeno un po' di strada Forza 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 Allora secondo me Così possiamo saltare Basta 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 Come basta Provo Sì 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 Perché andiamo sotto E facciamo una scaletta Ebbene Andiamo a risparmiare ragazzi Ui Perfetto Uh quasi Ero quasi andato sopra Ok ok Eh sì c'ero quasi C'ero quasi Che l'ha detto alla scavatura Andiamo Se il tesoro voi volete Le ender pearl Utilizzerete Quale ender pearl Dentro la chest Sì ci sono due ender per la testa No Ragazzi No io non lo voglio fare Guardate quel raggio di luce Nel divano Oh Dobbiamo andare fino a lì Perché Oh Questo è difficile Ok vado io Ci provo Sicuro Vado io Allora se si vuole sacrificare Vai 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 Piano 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 Oh 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 Fuoco 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 Ce l'ho fatta Come stai Sono vivo Espy Sono vivo È vivo È vivo È vivo Ok Luca vai tu Ma va bene così Ci provo Ok vai Arriva anche io ragazzi Dai Steph Dov'è che arriva Dov'è Steph Aiuto l'ho fatto un sacco a parabola Ok Buono 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 Dov'è Eh sono in alto Ah ok ok Ecco qui Dov'è che dobbiamo andare di preciso Dove c'è il raggio Allora Sì 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 Venite 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 Arrivo Pieno zeppo di fuoco Ah 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 Da qui Ah 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 Ok io sono passato Dovete saltare in mezzo a fuoco Ok Venite 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 uno alla volta Ok Ok Dobbiamo scendere qui sotto Dobbiamo scendere Uh che bello sto posto Andiamo Andiamo tutti Andiamo tutti Oddio Ok Lì c'è una cesta Una cesta Ok Quindi Ma li avete presi tutti Non mi avete lasciato Allora Li divido Li divido Uno Venite uno alla volta E vi do metà Vai 32 a testa Uno alla volta Vi ho chiesto Allora Prima despi Oh grazie 32 Poi Fere Vieni qua Ok vai Da brava Vi devo trattare come cagnolini Dannazione Tu sono cagnolino Guarda Grazie Grazie Vieni Luca Su Cucci 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 Dove il biscotto È mio È mio Voglio io la barbabilità Mi spiace No L'altro Siamo pieni di blocchi Ma adesso dove andiamo Adesso dobbiamo utilizzare L'ender pearl che c'è avanzata Per tornare Diciamo Dove eravamo Perché Vicino dove eravamo C'era una porta Bene effetti ne abbiamo due Che dobbiamo vedere dove porta Oh mio dio Il problema È risalire il divano Quindi sto creando Una stradina Piano piano ce la facciamo Ok 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 Cerchiamo di avvicinarci Il più possibile Di nuovo A diciamo La sporgenza massima Perché altrimenti Con l'ender pearl Rischiamo davvero tanto Questa volta secondo me È ancora più difficile Sì andiamo esatto Nei cuscinoni Quindi ui Perché Corrette Fatelo dritti Ok perfetto Corrette Questa volta è davvero difficile Io ve lo dico Anche perché noi Abbiamo pure bucato Un po' quel vaso E lo so E di conseguenza La superficie dove finire È ridotta ancora di più Allora Non è una buona idea Infatti Mi sa che ci provo io ragazzi Vai Steph Ricordatemi come l'eroe Che è molto bruciato Va bene Ok vai Io non ho una buona memoria Però scusami Steph Aiuto Vi prego Vi prego Sì C'hai fatta Ottimo Però sono incastrati Mezzo un blocco Ma come Sì mi sono un po' flipato Allora no Aspetta E meglio se Aspetto che Steph Si sposti Come faccio Continuo Si è venuto a suggerire Tutto il vaso Steph Che poi dai Guarda Spaccato tutto Eh ragazzi Non avevano altri muo Di forza Siamo male Ci provo Dovete provarci Dovete provarci Non ce la faremo mai Ve lo dico Ok questo è giusto Questo è giusto Buono Aiuto Aiuto nell'angolino Giustissimo Perché mi avete lasciato qui da solo con Luca Forza ragazzi Mi sposto Mi sposto Quindi avete spazio Salto E via Dai 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 L'annullo Oddio Non sono finito Oddio Espi Spostati Spostati per Luca Sono salvo Tuoni Vieni 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 Arrivo Luca è troppo No Luca Luca No Luca no Sono vivo Sono vivo Dov'è Luca È nel bordo Dov'è Ma dove È circondato dal fuoco ragazzi Dall'altra parte Salite su Salite su Salite su Venite a vedere che fine ha fatto Ma la dobbiamo scendere a prenderlo No 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 Lui dietro di sé può bucare un pochettino quel muro E diciamo farsi una strada per arrivare fino alla porta Quindi noi ci facciamo la nostra stradina Lui la sua e ci rivediamo direttamente alla porta Alla porta Perfetto Ok allora Questa stradina la facciamo un po' tutti Quindi metto i primi Facciamo tipo otto blocchi io E poi tocca a qualcun altro Fatto Vai Espi tocca a te Mettine otto anche tu Ce li contiamo Così facciamo a bravi Mentre Luca avanza nella sua strada No vai ancora dritto Vai ancora dritto Sì scusate Ma era meglio iniziare a girare No 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 Lo vedo io quando si gira E basta arrivare perfettamente alla porta E poi giriamo Otto blocchi A lei Vai Fere Ok Vai Espi Piano piano Allora avvisami quando girare Ok vai ancora un po' Vai ancora un po' Vado Altri due Possiamo girare Ok Tra poco incrociamo Luca Vuoi tu una mano? Eh conviene combinarci Ok ok Mi le aggiunti Luca Dicevo perché Ok Perfetto E adesso però bisogna comunque arrivare alla maniera Allora Spostatevi tutti No Un bel salto sulla maniglia gente Siete pazzi Un pochino Oddio si può fare volendo Dattemi un attimo Si può fare volendo Oh mamma mia È un po' più complicato del previsto Devo metterlo Che lo facciamo gente? Io ci provo Io ci provo Ok possiamo scendere Oh piano piano Oh Ce l'ho fatta Aia Oh non mi avete avvisato che dietro c'era la lava Giusto giusto Sto Vieni a vedere Espi Cosa c'è? Eh sì Siamo nel bagno Il bagno C'è pieno di lava anche il bagno C'è la tazza del water Piena Di fuoco Incredibile Dov'è che dobbiamo andare di preciso? Non proprio Io andrei verso la tazza Perché se noti è il posto più vicino La doccia Alla destra è davvero lontana Non so se ci bastano i blocchi Quindi proviamo verso di qui No sì Facciamo il giro e cerchiamo di Di saltare tra le varie cose Ok Allora Recap dei blocchi Io ne ho 18 24 Ok Io ancora 31 Allora Fere e Luca Andate avanti voi due E fate un po' di strada Forza 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 Ma perché l'hai fatto lanciare dalle sopra? Ah che schifo Mi sembrava divertente Che schifo Eppi non toccare niente nel water Mi raccomando Non è igienico Sto qui nello scarico Venitemi a prendere Che penso di avere qualcosa di rotto Ragazzi Io non ho voglia di scendere Luca Allora L'hai fatto cadere lì sotto Adesso lo dobbiamo recuperare Io ti lo sciacquone No no Io ti lo sciacquone ragazzi Ma smettila Ce ne liberiamo una volta per tutti Dai dai Intasato lo intaso io lo sai bene Vabbè arrivo Andiamo Dove sei Espy? Qui Aiuto Sono bloccato qui Non riesco a risalire la corrente È troppo forte Sali su di me Sali su di me Ah non vedo niente Aspetta Tranquillo Doviamo andare un po' più in qua Mamma mia quanto è forte questa corrente Espy pesa tantissimo ragazzi Ma perché siete entrati qui sotto? Datemi una mano Ok Tiriamolo fuori dai Fere lo puoi prendere tu? Sali Espy Dai andiamo Ok Aspetta che vi buco la strada Devi bucarvi un po' di stradina Vai Ok qua Ferenic è molto più brava a tenermi rispetto a te Steph Ecco fatto Ecco fatto E sei troppo pesante Mi sento benissimo Steph Sicuro? Finalmente ripresa a camminare Sì Ti senti bene Sì Ti senti bene nel genere? Espy Salta Oh guarda come salta 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 Espy ma fermati Calmati Calmati Che se non rischi di farti di nuovo male Ok Ho rallentato Ho rallentato Sicuramente ho mangiato una barbabietola È l'unica spiegazione È vero È la più stucureta barbabietola di sempre Ragazzi Una cosa importante Non dovete stare attenti solo al fuoco Perché è tutto bucarellato Vabbè è un termostifone giustamente Quindi Agli spazi Non c'è bisogno di dirvi che cosa succede Oh mio Dio ma Com'è che ho fatto a schivare queste cose io Steph? Non l'ho capito Espy Devo essere sincero Io non l'ho capito come hai fatto Perché Non lo so nemmeno io È molto più difficile di quanto pensi No allora Fermi 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 Importantissimo Quanti blocchi abbiamo Io ne ho dieci 13 Ok Espy Devi andare dritto per dritto su quel cestino Dobbiamo risparmiare più blocchi che possiamo Perché ormai siamo agli sgoccioli Ok E siamo davvero messi male Oh mamma mia è pieno di fuoco anche il cestino Beh il cestino mi sembra un bel posto No 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 Non buttate biscotti No Guarda Espy Basta Non fatelo Basta Basta Vedete che c'è un rubinetto aperto Andiamo dove c'è l'acqua e seguiamo l'acqua Sì ma io sto finendo i blocchi Cioè non ci arriveremo mai Io non ne ho nessuno Ci arriviamo Ci arriviamo Ci arriveremo mai Luca quanti ne hai? 8 Ok ci bastano Dovrebbero bastarci Ok Vi ho finito Vi ho finito Datevi il cambio Quasi pronti per il salto gente 0 0 proprio Vado Vai saltate Saltate Vado Andiamo Ok Ok Ce la facciamo Ce la facciamo Andiamo sotto 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 C'è uno scivolo d'acqua Mamma mia ma non puoi fare queste cose Sono un po' bloccato Ciao ciao Luca dopo Aspetta Dai dobbiamo aiutare anche Luca Io ho soltanto sei però Uno lo posso mettere Aspetta non ci arrivo Vai Luca Perfetto Stiamo arrivati dentro la doccia Non possiamo uscire dal bagno normalmente Quindi dobbiamo sperare che questo scarico Ci porti da qualche parte Ormai stiamo verso la fine Andiamo Andiamo Ok Oh dio Oh no Che sono queste cose Spugne Fa un po' schifo Attenta a non toccare i muri Ma cosa Non mi chiamo Espi Te li rendo i ceffoni Non ci provare mai più Mi sembra tutto ok Andiamo Certo che dobbiamo correre Che stai facendo Attenti retropola Attenti Attenti No no Indietro 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 Ok Ok è finita è finita è finita Si può andare Ebbè ci circa Cioè Steph è rischiato di morire solo perché non controlli i posti Mi è venuto un infarto Ma poi attenzione era troppo strano Mi stavi correndo così È un vicolo cieco No 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 Abbiamo un'accesoria Si può bucare Vediamo dove usciamo fuori Certo Vai bucate Ok attenzione che magari c'è lava Fate piano Che posto è Che posto è Che cosa è ragazzi Siamo in un'altra stanza ancora È una cucina ragazzi Ci sono delle sedie C'è un tavolo È una cucina per forza È probabile È vero È anche un acquario lì su Ok È anche una presa Però Non abbiamo più blocchi Eh non so Quindi dovremmo trovare un modo per avanzare di nuovo Oh no E c'è tutta la cucina Da fare E sembra avere un posto gigantesco Io spero che almeno Troveremo una via di fuga Completando questa cucina Dannazione Bene che ci sia il video Ciao ciao Scioggiate un like E se ne provate In questo video potete continuare E iscrivervi in quello Per darvi gli altri video Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao